La taverna è a Taranto in via Lombardia 2. 40 anni di esperienza e di professionalità, salumi, formaggi, gastronomia d'asporto, anche con servizio a domicilio. Negli anni ci siamo specializzati confezionando cestini in natalizi di tutti i tipi. Da noi potrai personalizzare a tuo piacimento ogni singolo cestino, con un vasto assortimento di prodotti locali. Inoltre avrai la possibilità di scegliere il formato e la qualità del cestino in vimini o le cassette di legno. Non dovrai preoccuparti della consegna, perché saremo noi ad occuparcene direttamente. Con noi avrai la sicurezza di aver scelto un buon regalo. Ti aspettiamo e naturalmente auguriamo un sereno Natale ed un felice 2020 a tutti!